Nella notte un violento scontro fra due autoveicoli ha causato il ferimento di quattro persone, uno è grave. È successo in piena città all'incrocio tra Corso Matteotti e Via Lessona. Poco prima delle due si sono scontrati un furgone Fiat Scudo ed una BMW. Il più grave dei feriti è attualmente in rianimazione. Si tratta di Felice Rainero, 46 anni, abitante ad Asti. E si è conclusa questa mattina un'operazione della polizia che ha visto impegnato uno speciale reparto anticrimine di Torino ed ha interessato per l'ultimo weekend tutto il territorio provinciale. Complessivamente sono state identificate 426 persone e controllati 198 autoveicoli più una decina di locali pubblici. Tra le persone arrestate due giovani tunisini trovati in prossimità della scuola elementare Baussano in possesso di dosi di eroina. Altre sei dosi sono state recuperate presso la loro abitazione di Castello Dannone, una cittadina romena di 28 anni e invece è stata arrestata perché ricercata per violazione alle legge sull'immigrazione. E sabato mattina è stato presentato il progetto Scuole che vuole promuovere lo sport del tamburello nelle primarie di Asti. Nel pomeriggio invece c'è stato il consueto raduno con la benedizione del Vescovo presso gli oblati di San Giuseppe Marello, patrono degli sport sferisterici di tutti i praticanti di questo sport tradizionale. Nell'occasione era presente il presidente nazionale Feder Tamburello, Emilio Crosato. Sentiamo. Il comitato di Asti, la realtà del tamburello ad Asti, si vede che guarda lontano, è lungimirante perché effettivamente cercare di mettere a punto un progetto per la promozione del tamburello a livello di scuola elementare che sarà la nuova frontiera dell'attività motoria e sportiva del futuro è stata una grande intuizione, una grande idea e il comitato provinciale c'era. C'era perché in questo territorio ormai riesce il tamburello a coinvolgere un po' tutti, quindi autorità amministrative, sportive, mondo della scuola e quindi veramente il comitato sta lavorando molto bene. Questo progetto scuola è strutturato con due scuole medie, Iona, dove è già iniziato dal lunedì scorso, poi passeremo alla Broferio, poi andremo anche al sesto plesso e poi cercheremo di portare tutta questa grande attività che stiamo facendo nelle scuole e poi fuori all'open sul campo lungo talo. Noi crediamo molto nei valori, nei valori non solo sportivi ma nei valori umani, cerchiamo di trasmetterlo a questi giovani e cerchiamo di far crescere questi ragazzi, non solo far diventare campioni nello sport ma campioni anche nella vita. E anche per oggi dalla redazione di Asti è tutto, grazie come sempre per averci seguito, la linea torna allo studio.